Poi Teresa ti stanno odiando, sono molto contenta di rivederti perché sei stata poco valorizzata secondo me dalla televisione. Che cosa intendi per poco valorizzato? Ti avremmo voluto vedere di più. È un'altra cosa questa, è un desiderio tuo diciamo. No, non è vero, di tanti di noi. No, ma diciamo è il poco valorizzato che secondo me non ha senso perché in realtà non è che io non faccio la televisione perché nessuno mi vuole o perché c'è qualche cosa strana sotto perché in questo momento preferisco fare altro che il teatro ma non è una cattiveria oppure una mancanza di capacità di intuire un talento da parte di qualcuno. È semplicemente un desiderio mio di fare altro in questo momento. Bene, e come ti senti visto che è la prima volta comunque sul palco dell'Ariston? Ah, felice, sono una specie di scheggia impazzita, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di salire su quel palco, sei preoccupato, ti vedo che ti agiti. Non vedo l'ora perché lo sai qual è la cosa più bella? Che è diretta, capito? Quindi io posso fare qualsiasi cosa e nessuno mi può tagliare. Quella è la cosa più bella. Quindi non vedo l'ora di essere in questa cosa così senza rete, bello. Ed è una cosa che avevo chiesto anche quando, sai che io per me Zelica è la mia, sono nata professionalmente lì e ogni volta quando parlavo con Gini e Michele anche ultimamente dicevo per me, io rifaccio Zelica, anzi questo è un messaggio lo mando, adesso faccio Zelica se lo fate in diretta perché secondo me un gruppo di comici in diretta così è il massimo. Quindi secondo me dobbiamo un po' questa cosa qua della... Cioè mi diverte molto il fatto di non avere, di essere molto libera perché quello che succede a teatro è con la diretta è la stessa cosa, però qua lo fai davanti a 10, 15, lo sanno loro due i numeri, insomma davanti a tante persone. Quindi è ancora più divertente, più eccitante. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.